e ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati su minecraft sulle badwars e ho appena fatto una giocata da pro ho tipo battuto praticamente un team da solo per gli altri facevano una sega e quindi voglio vedere se riesco a rifare la stessa cosa siamo non troppa gente perché siamo solo in sei ma va benissimo così però soltanto una partita poi pisi no tanto per spaccare i culi e vincere e far qualcosa avete capito insomma ok ci capisco niente ecco eccolo al generatore iniziamo col prenderci le cose questo qua è il momento easy in cui si prendono le cose quindi non c'è niente di strano roba del genere cioè non è non è il momento top della partita questo qua è un momento un po più rilassato perché alla fine o uno è scemo o non pusha quindi non dovrebbe succedere niente di particolare allora io c'ho già 17 di ferro cosa che potrebbe essermi utile per andare almeno all'isola dei diamanti e se riusciamo anche dagli smeraldi però la vedo più dura però non è detto proviamo ad andare anche dagli smeraldi per l'altro non vorrei già rischiato all'inizio perché non c'è nessuna protezione quindi non vorrei rischiare proviamo ad andare diretti dagli smeraldi se vediamo che c'è gente lasciamo stare perché non ne vale la pena cioè io non son protetto quindi sfrutto il momento top cioè il momento sciallo della partita per andare dagli smeraldi non faccio niente in particolare mentre questi qua magari si stanno già armando e tutto io non ho niente e subito vado al centro ci sarà qualcuno si ci sono già i verdi che uno viene anche a pusharmi quindi non è il caso lo sapevo che sarebbe arrivato un verde ma io piuttosto me ne torno indietro non prendo gli smeraldi speravo già di riuscire a farmi l'armatura in diamante all'inizio che così era tipo op perché nessuno probabilmente ci avrebbe avuta però non ce l'ho fatta ok il mio compagno è riuscito a distruggere il verde meno male perché non avevo la possibilità visto che ero senza armatura con una spada in legno ok adesso cosa potrei fare il nostro compagno il nostro compagno è stato ucciso dai verdi non vorrei che stessero già venendo in qua io nel dubbio mi faccio già l'armatura ora che posso e se riesco ancora uno di oro per favore la spada in ferro uno di oro ma non mi fa imposta sto gioco e adesso siamo bene equipaggiati e possiamo anche pensare ad andare al centro senza morire per forza ma magari tipo combinando qualcosa questi lasciano i ponti a metà non mi piace sta cosa e laggiù c'è un verde no ma ucciso maledetto ah è vero la spada non respauna l'armatura che respauna no devo rifarmi la spada in ferro che tortura beh ragazzi ho di nuovo il ferro c'è l'oro sufficiente quindi possiamo rifarci la spadina in ferro però che è menata ogni volta di farsi la spada qualcuno avrà coperto il letto non ha una copertura sensazionale si poteva fare di meglio ma d'altra parte io non ho tempo di starci dietro voglio andare a pushare però non ho l'arco e l'arco si sa che è la mia la mia arma preferita quindi se volessi proprio essere sicuro di non morire forse mi converrebbe aspettare l'archetto nel frattempo direi che mi faccio da qualche blocco e nel frattempo difendo un po' mentre aspettiamo che ci sia l'oro necessario poi se ci metto pure quello facciamo che mi prendo qualche diamantino inizio a fare upgrade nel frattempo volevo dirvi che le live adesso saranno ovviamente sospese per il fatto che sono in in periodo prematurità quindi tipo studio e se non studio ho voglia di morire quindi nel senso non è proprio il momento adatto per fare le live comunque torneranno le live su clash royale con anche le nuove carte se riuscirò a sbloccarle cioè tipo in questo periodo mentre sto registrando il video è uscito la gabbia goblin magari nel momento in cui esce ci sta già uscendo un'altra carta non lo so perché la gabbia goblin ci mettono anche un sacco di lasciarla tipo 12 giorni cioè un una fucilata non so bene il motivo ma ok riesco già a farmi l'arco cosa indispensabile mi servirebbe uno di oro e mi piglio altre fecce perfetto grazie dell'uno di oro ok i diamantini non voglio perderli né tantomeno questo ferro quindi se morissi almeno ce l'ho nelle ender chest aspettiamo di prenderci un altro diamantino nel frattempo stiamo attenti che non arrivi nessuno e se arriva qualcuno difendiamo con l'arco easy ok abbiamo il diamantino raggiù c'è un verde al centro i verdi stanno tentando di prendersi il centro cioè si stanno prendendo il centro perché ci sono troppo addirittura potrebbe essere anche una roba negativa per loro perché alla fine comunque la loro base è scoperta quindi se uno tipo riuscisse a farsi una pozione di invisibilità andrebbe nella loro base gli distruggerebbe il letto qualcuno ok ho detto al tizio che faccia la forge così tipo riusciamo a farci degli smeraldi in casa e qua c'è uno dei nostri non so se ci sono anche i verdi ho paura di sì proverò a salire comunque a vedere se c'è qualche oh ci sono degli smeraldini ottimi adesso riuscire a scappare con gli smeraldini quindi tipo dove sono i verdi non li vedo vedranno anche i nomi quindi YOLO YOLO scappa corri via uh anche dei diamantini tra l'altro dai 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 che ci siamo solo ferro ma stiamo scherzando veramente tanto i diamanti ce non può se riuscissi a tornare al centro senza che i verdi che i verdi mi raggiungano sarebbe già una bella cosa però sto pensando più alla forge che agli smeraldi perché gli smeraldi perché se mi faccio la forge gli smeraldi ci do qua in casa non dopo cioè ci mettono di più a spawnare guardate no raga non avete visto la kill vi prego riguardatevela cioè raga è stata una kill fenomenale cioè sto qua tutto bello convinto ho passato il ponte tra l'altro ho rotto anche un blocco perché se se avete visto l'inquadratura di prima c'era un blocco rotto ci possiamo anche tornare perché tanto non credo che i miei compagni l'abbiano sistemato no infatti come vedete c'è ancora un blocco rotto quello ho rotto il blocco per fare in modo che il mio compagno non arrivasse e e si aspettava di trovarsi la base scoperta si è dimenticato che c'era un terzo dei nostri lui l'aveva visto il sol 2 quindi lui ha rotto i blocchi per non farci tornare e e poi appena arrivato su quest'isola io ho preso l'arco e l'ho shuttato perché probabilmente sarà stato senza vita avuto la botta di culo del ponte ma non la botta di culo quando è arrivato qua quindi è stata una morte epica raga uh goldforge l'hanno già fatta agli altri interessante quasi quasi allora piuttosto che la goldforge sharpness dire che la sharpness è molto utile in questa in questa situazione e comunque loro sono forti in pvp perciò se e io non sono molto forte quindi se se vengono mi scassano il mazzo cosa che magari vorrei che non facessero quindi io dirai saliamo smeraldini quanti smeraldi ok smeraldini presi adesso sperando che non ci siano i verdi adesso non mi incurano io oro di nuovo che il mio personaggio ogni tanto va lento ogni tanto no c'è un bug raga c'è che lo sprint finisce dopo pochissimo prima non succedeva non so ora la 1.13 perché io sto giocando con la 1.13 quindi magari ora la 1.13 o sono io che che non premo bene non lo so raga comunque fatto sta che succede comunque raga siamo ben potenziati quindi possiamo sperare anche di andare a rompergli il letto ma non ci giurerai troppo di andare a rompere il letto vabbè tanto facciamo la vera cosa diamanti qua dentro diamante qua dentro poi ci facciamo tutti gli attrezzi necessari purtroppo non riesco a farmi anche la lascia diamante ma la posso fare sull'inferro e mi servono giusto ancora le cesoie che ce le ho qua ok allora cesoie tutta la roba perfetto però la mancanza della dell'ascia in diamante me la faccio ma intanto i materiali ce lo voglio posto mettiamo tutto qua e direi che gli possiamo andare a scassare il mazzo chi è l'unico e solo eh chi è l'unico e solo e venite fatevi sotto vai vi sto aspettando cioè in realtà non vi sto aspettando perché sto vendendo io però allora dove sono loro ah abbiamo vinto così li hanno spaccato il letto e li hanno uccisi in un secondo perché non c'è un'altra spiegazione visto che è stata una roba velocissima vabbè io direi che per questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto come solito lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale se siete nuovi se non siete nuovi andate andate nella mia stalkerare nei vari social come nel video trovate nella descrizione e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti ciao a tutti